Lo sciamano ha accettato di unirsi alla squadra a fatto che noi liberiamo la sua terra dai minaconi e affrontiamo la maschera della terra oscura. Un compito impossibile ma ci proveremo. Prima di tutto per spoltire i ranghi nemici chiederemo aiuto alla paura locale. Ma orre servirà ai nostri medici a un buco di gigante? Un po' di fortuna la bestia ci prenderà gusto e scranocchierà minatori a destra e a sinistra. Secondo colpiremo questi pezzi proprio dove vivono o almeno dove si rilassero. Se riusciano a distruggere quei barchi di monate si deprimeranno e cominceranno a tornare a casa. Infine Sly userà le macchine dei minatori per perforare il letto dell'acqua asciutto e far corriscire del petrolio radioattivo. Tiratevi di me e ci rilasseremo della maschera.